Se non si interviene rapidamente, Varone potrebbe perdere un manufatto che risale all'epoca dei molini ad acqua lungo il canale artificiale Varoncello. Da tempo Graziano Riccadonna dell'associazione Pinter ha proposto di ripristinare la ruota della sega che si trova nell'omonima via a Varone. È l'ultima testimone di un'epoca fervida di realizzazioni, dice Riccadonna, ma altrettanto tramontata, quindi bisognosa di memoria storica. Le mappe catastali napoleonica del 1813 e teresiana del 1859 riportano le numerose ruote esistenti sul percorso del Varoncello e legate a lavorazioni artigianali lungo il suo corso. Si tratta di 11 opifici di cui 5 mulini, un mulino con torchio ad olio, una fabbrica di saponi, un filatoio da seta, una cartiera, un fabbro e appunto la segheria Zanoni di cui rimane la ruota. Già nel lontano 1998 il gruppo iniziative Varone aveva richiesto al comune di farsi carico del recupero ambientale del canale Varoncello e della relativa zona circostante. Ma non solo, anche la scuola primaria Gianfranco Fedrigoni nell'anno scolastico 2012-2013 realizzò un'interessante ricerca scolastica svolta con un vasto coinvolgimento di alunni e famiglie sul tema della salvaguardia e valorizzazione della vita e tradizioni lungo il corso d'acqua, ancora oggi esistenti. Una di queste è appunto la ruota ottocentesca di Varone, rifatta ex novo nel 1951, ma ora ridotta ormai a rudere. La ruota è bisognosa con urgenza di un restauro integrale. In questa prospettiva, conclude l'associazione Pinter, lanciamo un appello alle istituzioni locali perché si facciano carico della struttura a fini didattici ma anche promozionali del territorio. Un patrimonio, la ruota della ex sega di Varone all'interno del parco fluviale, da non disperdere in nome magari della realizzazione o della razionalizzazione urbana.